Ok, questo è listo. Perfetto. Grazie a tutti. Las vedo poi. Ciao! Tengo una clienta per una classe privata e poi la mia amante Chelsea e la mia amica vendranno a la classe Rapunzel e tu vas a essere la professora. Que emocionante! No se olviden che il gruppo di ballet che va a fare la presentazione di casca-nueces va a praticare come in 20 minuti. Ok, dopo la mia classe possono essere praticare e poi Rapunzel tendrà la classe di Chelsea. Mi sembra bene, Barbie. Come ti senti oggi? Molto bene, mi piace venire a la classe di ballet. Perfetto? Adesso? Perfecto Bravo, la classe è terminato Nos vemos la prossima settimana Stacy Grazie Barbie Wow Leah, che studio più cool De verità che sì Wow, un piano di verità Qui è il studio di Barbie Uy, che emozione Hola niñas, hanno arrivato temprano Però antes di su classe Va a haber una pratica del gruppo de ballet Que va a hacer la obra de los cascanueces Wow, podemos quedar a ver? Claro que sí, tomen asiento, llegarán pronto Oh, que cool Mira todos los postres en las paredes Yo que soy una ballena de ballet Wow, estoy bien Para que vean, todos todavía a veces tenemos errores Hola niñas, yo soy Rapunzel y seré su instructora de ballet Pero hay que esperar media hora a que termine el grupo de ballet de los cascanueces Ok, gracias Chelsea, mira, ahí son las ballerinas de ballet Las que van a hacer el show Wow, se ven tan bonitas, me encanta su ropa Hola niñas Hola, algún día queremos bailar con ustedes Ya lo que lo podrán hacer Solo tienen que practicar, practicar y nunca darse por vencidas Es verdad Realmente estoy sin anfitriona No, no, no 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 Ahora nos disfr Comme je descendes Que lesisée No, no Este apliquas Me gran lavoro wow, che super cool ok, niñas, è il turno vamos a comenzar estirandolos profe, quando vamos a fare bailes come questi? eso toma molto tempo hai che praticare moltissimo e oggi è il primo giorno di classe brazzi arriba quiero fare come vueltas come esa chica lo faranno perfecto, niñas ora si la barra wow, molto bene no posso, questo è un po' difficile sta super bene, non ti preoccupi molto bene, niñas ora poten praticare tutto lo che aprendono per la prossima classe wow, che super divertido grazie vamos a jugar con il piano si chelsea, come ti fa tu prima classe? super bene, barbie rapunzel è una professora incredibile mi alegro mua dejame que limpio e nos vamos a casa ok hola chicos, benvenuti a mi canal en questo video stiamo giugando con questo set di barbie club chelsea viene con una muñeca di chelsea e una amiguita las due stanno vestiti con tutus coronitas, malli listi per andare a classe di ballet parece che anche anche un piccolo radio e qualche tipo di parante ok chicos, e qui sono le muñeca fuori di su caja primero che tutto abbiamo a Chelsea Chelsea tiene su cabello in una cola al lado una corona morata una malla rosa con mariposas moradas un tutu rosato lleno di brillos malli blanci e sapatini rosati vino con questa barra che è plateata con rosa poi abbiamo a la amiguita di Chelsea tiene il cabello negro una corona rosata una malla che dice dance, baile e è blanca con un corazon un tutu rosato ugual che il di Chelsea malli malli e sapatini rosati e il set di vino con questo piccolo radio bueno chicos spero che les hagi gustado molto questo video non se olviden di dare un dedito arriva per altri videos come questo e ci vediamo nel prossimo video adios princesa 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 Barbie prinsesa Barbie despiértese ora mismo ella è la unica alumna in la scuola che mi cuesta tanto levantar signorita Barbie spiattati spiattati Buongiorno, signorita Tremaine. È ora di riusci, signorita. Non voglio andare a le classi. Questo lo dice tutti i giorni. Ok, bene, vi farò il suo desiderio, quindi per favore, levante. Non voglio andare a le classi. Qui ho ho portato il suo desiderio. In serio. Signorita, avessi l'ha olvidato che oggi ha il tuo classi favorita? Allora, dopo il suo classi di algebra, ha il classi di valet. Me avevo olvidato per completo che oggi era lunes. Il valet è il mio vita entera. Come mi piacere che ti avessi un po' di entusiasmo per altre cose. Bueno, qui sta il suo desiderio. Pancakes, huevos fritos, tocino e un café con leche. Regresa un 20 minuti e spero che già sei lisa per andare a fare il suo classi. Che delizioso desiderio. Che delizioso. Oh, che llena estoy. Però estuvo delicioso. Ora si tengo energia per bañarme e alistarme per andare a la scuola. Allora, prendere il acqua mentre me voy a cepillare i denti. Signorita, su uniforme se ha planchato. Se lo dejo encima de su cama. Grazie. Grazie. Quien puede ser? Adelante. Buffy, todavía no estás lista para ir a clases? Pues tienes que apurarte. Es muy tarde. Yo estoy lista hace como media hora. Ok. Oh, cuántas cosas tienes en tu habitación. Y claro, el chico más lindo de la escuela. Oh, hoy tenemos clase de valet. Uh-huh. 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 Yeah, casi estoy lista. Me faltan mis zapatos. ¿Lista? Sí. Vamos. Vamos a tener un gran día. Jack quiere ir a clase de baile. Yo también. ¿Qué? Entonces te encuentro en la clase de valet. Ok. Nos vemos. ¡Qué emocionante! Ahora me voy a cambiar e irme a mi clase de valet. Pero primero me tengo que peinar. Me tengo que hacer un moño alto. Hey, ya llegué. Disculpa que soy tarde. Como siempre, Barbie. Lo pare. Ok. Te quiero lampar. Pero luego. Tормas arriba. No me ganó. Estudio. Seguire. No me excel. SOLO. Bueno. No me agguanta. Ay. Update. No me agguanta. Un po' più alto, Barbie. Tu postura? Molto meglio. Tienes demasiado equilibrio da Lindsay. Todo va con pratica, Barbie. Un po' più alto, Barbie. Un po' più alto, Barbie. Un po' più alto, è stata una gran pratica. Però ora dobbiamo andare a fare e abbiamo una classe. Ciao, c'è!